Sono stato contento anche dei ragazzi del primo tempo, pur sapendo che ovviamente è una formazione con tanti ragazzi, con qualcuno che aveva giocato meno, con qualcuno che rientrava. Però era una partita in cui arrivavamo con diverse assenze nella zona nevralgica del campo e comunque tenere un ritmo alto in quella zona in tutta la gara sarebbe stata dura. Abbiamo fatto un primo tempo solido perché comunque affrontavamo un avversario di grande valore, perché comunque questo è un campionato e i risultati ce lo dicono sempre, in cui ogni partita è difficilissimo. Abbiamo fatto un primo tempo solido, poi nella ripresa siamo venuti fuori, abbiamo fatto subito un'occasione da gol in cui avremmo potuto segnare perché 3 contro 1 dobbiamo fare gol. Poi abbiamo fatto gol, abbiamo raddoppiato, abbiamo avuto l'occasione del 3 a 0, sarebbe stata forse quasi chiusa la partita, invece non l'abbiamo chiusa e poi le partite si riaprono. Gli avversari sono bravi, nel finale ovviamente ci hanno messo sotto pressione, ma ci complimenti a tutti i ragazzi perché questa è una vittoria pesante contro un avversario forte che veniva da tanti risultati utili, che aveva vinto tante partite fuori casa, che non era facile. Invece in un momento anche non facile per noi, una bella risposta da parte di tutti. Chi è iniziato e chi è entrato. Noi non dobbiamo cominciare a guardare intorno, noi dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo fare delle belle partite, dobbiamo vivere le gare, farle al massimo tutte, sapendo che sono difficili. Quindi vi ho fatto i complimenti perché non era affatto facile vincerla, ci siamo riusciti, abbiamo fatto delle belle cose, ne abbiamo fatte le altre che sicuramente possiamo migliorare. Nella presenza della gara, soprattutto nel finale, dobbiamo e possiamo viverla di più, anche se non era facile perché comunque avevamo Sergio Calai che aveva i crampi, Mario Sampirisi che era molto stanco, in mezzo non avevamo tantissime alternative. Sapevo che saremmo arrivati non al top, però siamo stati bravi ad arrivarci, con un risultato a nostro favore abbiamo stretto i denti e abbiamo portato a casa una vittoria importante.